Mi pare che 10 di queste persone siano accolte dalla diaconia valdese a Torino e questo se vogliamo è anche un segnale che caratterizza lo spirito accogliente della nostra regione. Dal punto di vista politico hanno messo con un piemontesismo un taccone a una situazione dei rapporti tra Cinque Stelle e Lega che vedo sempre più precario. Dal punto di vista umanitario applaudo al fatto che si sia trovata una soluzione che trovo francamente ignobile, che si sia dovuto aspettare quasi 20 giorni perché una popolazione di quasi 500 milioni di abitanti come l'Europa trovi una collocazione, un'accoglienza per 50 persone.